Più si va avanti e più è tutto studiato, nel senso che la tattica ha un'importanza incredibile a meno che uno non sia in una squadra di un livello altissimo, si ha bisogno di provare quotidianamente certi meccanismi, perché l'intensità nello sport è sempre maggiore, le capacità atletiche dei giocatori sono sempre migliori e quindi ogni anno sembra che il campo diventi più piccolo, ma è semplicemente perché tutti vanno sempre più forti e quindi il margine di errore deve essere ridotto. Grazie